mi calibro traccia numero uno la traccia che apre Sayonara il lavoro che i ragazzi sono venuti a presentare qui ad Alphabit dicevamo etichetta Mofire io voglio comprare Sayonara dove lo prendo? Lo prendi su www.bigcartel.barrediplutonio.com oppure viene live oppure puoi anche contattarci direttamente su la mail ok lasciamo le pagine facebook vostre allora per chi ci ascolta www.facebook.com slash class skills c l a w s k i w l z class skills un saluto quindi anche agli amici di barri di plutonio che sostengono il progetto e si sbattono a bestia veramente per la scena toscana